Buongiorno a tutti, siamo arrivati al penultimo giorno dei lavori del Sinodo delle Chiese Valdesi e Metodiste, penultimo giorno che si annuncia anche abbastanza faticoso dato probabilmente il lavoro che si protrarrà fino alle 11 di sera quando si passano all'approvazione di tutta una serie di ordini del giorno che ancora necessitano di discussione, i temi sono tanti. Domani invece si concluderà il Sinodo con l'elezione delle cariche o la riconferma delle cariche amministrative e in questo caso insomma con grande probabilità, anzi quasi sicuramente, verrà riconfermata per un ultimo anno di moderatura la pastora Maria Bonafede. La giornata di ieri invece è stata quasi integralmente dedicata al tema della diaconia, la diaconia che sono dunque le opere sociali e assistenziali della Chiesa, quell'azione della Chiesa cioè che intende attraverso la testimonianza cristiana portare aiuto, cura alle persone. In questo contesto si inserisce anche l'accoglienza allo straniero, tema al quale dedichiamo oggi questa conferenza stampa. Dunque i temi dell'immigrazione e dell'accoglienza allo straniero, della sua tutela, sono da anni all'attenzione delle Chiese evangeliche, un fenomeno quello dell'immigrazione che tocca direttamente anche le singole comunità, mutandone la composizione grazie all'aumento di membri di Chiesa provenienti dall'Asia e soprattutto dall'Africa. Un dato di fatto che pone nuove sfide alle Chiese e che impone loro una profonda riflessione su come essere Chiesa insieme. Abbiamo qui a questo tavolo il coordinatore del progetto Essere Chiesa insieme a cura della federazione delle Chiese evangeliche il professor Paolo Naso che è anche politologo e sulla mia sinistra invece abbiamo una donna si chiama Bridget Mafo Mundam proveniente dal Camerun che vive in Italia da 16 anni e che vive Essere Chiesa insieme sulla propria pelle. Quindi passerei prima la parola al professor Naso che ci può spiegare a che punto è questo progetto. Grazie, io inizierei da alcuni dati, alcuni noti altri forse meno. È notissimo il dato che in Italia ci sono oltre 5 milioni di immigrati, è noto che oltre il 78% di queste persone presenti in Italia ha un lavoro stabile e permanente sia pure in un tempo di crisi. È esperienza comune che ci sono alcuni segmenti del nostro mercato del lavoro che si reggono esclusivamente grazie alla presenza degli immigrati. Per citarne uno, il dato della cura e dell'assistenza che impegna oltre un milione di donne in prevalenza immigrate che fanno le badanti come si suole dire. Questi sono i dati noti, meno noti probabilmente i dati relativi all'appartenenza religiosa degli immigrati, si parla molto dell'oltre milione di musulmani immigrati presenti in Italia, si parla abbastanza degli 800.000 ortodossi, si parla poco e nulla dei 3-400.000 evangelici, che sono un tassello sempre più consistente, visibile in alcune realtà. Per motivi di studio e di ricerca mi sono occupato recentemente della Campania, in particolare della zona di Caserta, basta girare per villaggi, centri, paesi come Castelvolturno, Giuliano, noti tristemente per altre ragioni e ci si imbatte in decine e decine di chiese evangeliche che fanno parte organica del paesaggio metropolitano della grande Napoli. Quindi 400.000 immigrati evangelici, una quota estremamente consistente di questi immigrati è ormai radicata nel nostro paese in permanenza, non sono immigrati di passaggio, una quota di questi immigrati appartengono organicamente alle chiese mesotiste e valdesi. Non abbiamo su questo dati certi, abbiamo soltanto delle stime che ci fanno dire che una quota tra il 15 e il 20% della base della comunità delle chiese evangeliche che valdesi e metropolitano oggi è composta da immigrati. Punti di forza di questo dato sono ovviamente, è ovviamente punto di forza massimo l'asse che va per intenderci da Bergamo fino a Pordenone, quindi un nord-est insensolato e tuttavia tutte le comunità del centro nord che sono organicamente inserite in ordinamento valdesi e metodista, da Firenze a Bologna, Parma, Piacenza e arrivando appunto fino a Pordenone, tutte in vario modo registrano la presenza significativa di immigrati. Tutto questo pone alle nostre chiese tre sfide. La prima sfida è di ordine politico, non c'è libertà senza diritti. C'è una frase che mi commuove, una volta un immigrato evangelico mi ha detto, sono in Italia da vent'anni, l'unico posto nel quale posso esercitare il voto e la mia chiesa. Quindi il tema dei diritti, dei diritti civili è per noi evangelici, valdesi e metodisti in particolare, un tema essenziale, da cui un'azione politica condotta con grande forza dalla Federazione delle Chiese Evangeliche per conto delle Chiese Evangeliche che vi aderiscono, che opera in questa direzione. Parte a giorni una campagna proprio sul tema dei diritti e dei diritti di cittadinanza. Una seconda priorità per le nostre chiese è quella dell'accoglienza. Per essere credibili bisogna fare. Attualmente, in seguito alla ondata di profughi provenienti dalla Libia, decine di nostre chiese, opere sociali, hanno deciso di accogliere dei profughi. Questi nuovi profughi che vengono accolti si aggiungono alle centinaia, alle migliaia di persone che vengono assistiti, seguiti, grazie a una serie di attività coordinate sostanzialmente da un'altra struttura della Federazione delle Chiese Evangeliche che è il servizio rifugiati e migranti. Quindi, prima priorità, appunto, il senso dell'accoglienza che si esprime anche in scelte molto pratiche e molto concrete. In terzo luogo, vorrei dire che tutto questo non ci riguarda soltanto in chiave sociologica, politica, assistenziale, diaconale, ma ci riguarda in senso ecclesiastico, ecclesiologico, se volete. Cioè, la presenza di 15-20% di immigrati nelle nostre chiese cambia le chiese evangeliche italiane, che sempre di più sono chiamate a essere chiese interculturali, in cui non c'è soltanto la multiculturalità dell'italiano insieme al camerunense, al cinese e al ganese, ma c'è la interculturalità di persone credenti che con diversi linguaggi, in diverso modo, con diverse tradizioni cercano di testimoniare Gesù Cristo. Ecco, queste tre grandi sfide, quella del riconoscimento, dell'accoglienza e dell'essere chiesa insieme, come noi diciamo con uno slogan, costituiscono un po' il tessuto del nostro lavoro su questa materia. Grazie, professor Naso. Vorrei passare la parola adesso a Bridget Ma von Mundam, che non è affatto badante, ma è insegnante di lingue, insegna inglese e italiano a Pisa e francese, l'italiano lo parla perfettamente, quindi inglese e francese, mi scusi, vive in Italia da 16 anni ed è la presidente del concistoro della chiesa valdese di Pisa. Quindi le passo la parola, se ci può dare una sua testimonianza intanto delle difficoltà che ha incontrato arrivando in Italia e invece della ricchezza che ha poi incontrato anche grazie alla chiesa valdese. Grazie per questo spazio. Io penso che per illustrare i benefici dell'essere chiesa insieme parlerò della mia esperienza personale. Io sono arrivata in Italia 16 anni fa con tutti i miei problemi di immigrati, con tutti i miei problemi perché sono arrivata già con bambini, con i figli molto piccoli. Sono arrivata come moglie, dunque a trovare un marito che era già in Italia. Avevo anche i miei problemi come donna già instruita a casa sua e che l'unico lavoro che mi aspettava qua fuori mi davano l'impressione era quello di fare badante. Sono arrivata con i miei problemi della mia cultura che era molto diversa dalla cultura italiana, sono arrivata con i problemi che io ero protestante in un paese quasi tutto cattolica. E a questo punto direi che cosa mi ha offerto la chiesa. Innanzitutto la chiesa l'ho cercata io perché essendo già protestante a casa mia ho preso l'elenco telefonico, ho cercato la chiesa valdese a Pisa, la mia città, e ci sono andata. Che cosa rappresenta la chiesa oggi per me? La chiesa è stata un punto di riferimento molto importante per me. La chiesa è servita per me come un, si dice in francese, trait d'union tra la mia cultura e la nuova società in quale mi trovavo. Per i miei figli. Perché uno che viene dall'Africa dove i figli sono, la disciplina lì è quasi patriarcale, dove i figli devono dire ai genitori, tutto quello che dicono i genitori è legge. E poi arriva qua in Italia, buttare i suoi figli in questa società, è come perderli. Qua la chiesa per me è servita per fare l'integrazione piano piano e non passare in un mondo all'altro, così bruscamente.